I comunicati congiunti di Diego Della Valle e Bernard Arnault parlano di piena sintonia tra i due imprenditori ricordando l'amicizia ventennale tra le famiglie, i valori umani e professionali condivisi senza dimenticare che Diego Della Valle siede nel consiglio d'amministrazione del gruppo francese dal 2002 e intanto 48 ore fa è diventato ufficiale l'ingresso di Chiara Ferragni nel consiglio d'amministrazione del gruppo TOS con l'approvazione del CDA Novità anche in casa Ferragamo con un cambio al vertice, il presidente Ferruccio Ferragamo lascia dopo 15 anni il posto